Sì, sono a Sondrio, mamma, domani è colloquio, sì, è un lavoro il detective, certo, Henry Bogart lo faceva, dormo ad Alessandro, sì, me la faccio la barba, certo, me la faccio domani, dai mamma, ciao, 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 ciao. No, pronto Alessandro, Al mi ricevi? PUTORTI, ottimo curriculum, diploma nel 99, commesso nel 2005, claustrofobico. Sì, infatti preferirei lavorare in esterno, pedinamenti, roba così. Abbiamo un test fatto su di lei. Bene. Le piace l'acqua, PUTORTI? Sì, sì, certo, poi sono andato sul mare. Perfetto. A Sondrio c'è tanta acqua, tantissima acqua, tanta come se fosse Aleppi. Le spiego la sua prova. Si rechi in Gervasio, torrente Ruscelletto, dove scorre scompostini e acqua con Demi. Ha presente Malaretti Stani? Hai capito, PUTORTI? Sì, perché la chiave, la chiave di tutto, sta nell'acqua. Beh, vada, vada allora. No, aspetti, lo sai l'inglese, vero? Sì, parlo in inglese, canopi, molto nuvi, un po' di sucasi, dicendo, ganasics. Bene, perfetto, può andare in missione PUTORTI. E si ricordi PUTORTI? Donna Arancione, canoma. Ma che cavolo mi ha detto quel canoma? Acqua con Demi? Donna Arancione, Che vuole? Don Arancione, Don Arancione, Grazie a tutti. Ma che cavolo, non ce ne visco niente. Puto arti? Puto arti? Puto arti? Che fa, dorme? Lei ha fantasia? Troppa fantasia. Provi con il cinema. Provi con il cinema. Pronto mamma? No, la barba non l'ho fatta. Sì, sì, quello che ho oggi, ma non lo faccio mamma. Da oggi mi occupo di cinema. No, la barba non lo faccio mamma. No, la barba non lo faccio mamma. Grazie.